Il cielo indica un'azione, il movimento che porta a sublima riuscita. La sublima riuscita è la riuscita come il tempo. Il tempo scorre continuamente, la perseveranza che ci suggerisce il cielo è quella di essere continuamente nell'azione del movimento. È una decisione importante, è la prima decisione che va presa all'inizio del libro dei mutamenti. Essere come il tempo. Il tempo non si ferma mai. Così la mente deve avere chiara il suo scopo, che può essere l'illuminazione, può essere trovare un qualcosa nella propria vita. Questo definire deve essere chiaro e deve essere perseguito. È la decisione costante, è l'intenzione, proprio come il tempo, che non ha bisogno di fare nulla per scorrere e per rilasciare tutti gli esseri nella bellezza. Buona vita e buon Tao! Grazie a tutti!